Questa sera invece scendiamo un po' di scala, anche se parlare di Italia in questo momento non significa ridurre la complessità del dibattito, anzi la storia ci insegna che forse la complessità aumenta. Tanto io presento gli ospiti di questa serata, Marta Canino dei centri sociali al nord-est, Marco Bascetta, editorialista del Manifesto e autore di numerosi saggi politici, Maurizio Landini, segretario della FIOM e promotore della coalizione sociale e Sergio Zulian, portavoce di ADL Cobas qui in Veneto. Bene, io vorrei iniziare facendo una premessa metodologica, anche cercando di spiegare perché abbiamo voluto organizzare il dibattito di questa sera. Bene, per noi l'obiettivo è innanzitutto quello di sottrarre la discussione che c'è in questo momento attorno alla coalizione sociale, ma in generale attorno al tema delle coalizioni, dalla dimensione della polarizzazione. Noi non siamo né tifosi né avversari, questo è un dato importantissimo, è un dato di fatto, un dato politico. Non ci interessa nemmeno ragionare in termini di opinionismo, ma ci interessa questa sera valorizzare, tornare a valorizzare in questo Paese la dimensione politica del pubblico confronto sui temi. Questa deve essere un'attitudine per tutti. E questo lo facciamo parlando appunto di coalizioni, di come si pratica la dimensione della ricomposizione sociale, di come proviamo a far politica in questo Paese avendo in mente l'idea dell'alternativa. Però vogliamo farlo anche inserendo altri elementi all'interno del dibattito. Ad esempio, una delle questioni che mi preme iniziare a discutere, partendo anche da quelli che sono stati 16 mesi di governo Renzi, è quello che hanno comportato. Il governo Renzi ha compiuto un'operazione importantissima, è riuscito in 16 mesi a demolire completamente la società salariale, quella società comunque basata sul lavoro salariato. È chiaro che è una tendenza, però le riuscite a demolire. Una società basata sul lavoro dipendente, sul welfare pubblico. Quindi gli ultimi elementi che facevano capo a questa società sono stati completamente demoliti, perché è stato introdotto in maniera definitiva in Italia quel capitalismo senza democrazia, che è sostanzialmente la base di quello che è il riassetto del capitale e della governance neoliberale dentro la crisi globale.